Ben trovati telespettatori del Sasso Nallostagno, questa settimana siamo a Villa di Serrio per parlare di ristrutturazioni, in particolare quelle legate al bonus 110%. Ve ne siete interessati? Ne avete approfittato? Queste e tante altre domande, appunto, nelle nostre interviste, adesso, ripeto, qui da Villa di Serrio. Parliamo del 110%, ne ha mai sentito parlare? Sì, per quello sì, però io non l'ho fatto quello. Perché? Perché è una cosa che mi va proprio a genio, ecco, cioè ho paura che ci sia degli imbrogli, paghi niente, poi alla fine vi dobbiamo pagare tutto. Quindi ha detto, prima di trovarmi sorprese, è così. Conosci qualcuno che magari qui a Villa l'ha fatto, ne ha approfittato? Il signore forse lo sa di meglio. C'è un condominio lì davanti a me che dovrebbero farlo, sono venuti a prendere le misure fino a ottobre, dovevano messersi dietro a farlo, invece hanno lasciato perdere. Devono aspettare ancora perché non sono sicuri se pagano o cosa. È quello il problema, che se lo Stato non paga, chi paga? È quello lì. Mi stava dicendo che secondo lei cos'è il 110%? Che cos'è? Chi paga? È chi? Se io faccio mettere a posto la casa, chi mi paga? Lo Stato. È lo Stato? È lo Stato doveva prendere i soldi? Dove va a prendere i soldi? Perché? Perché quello che fa un progetto, spende una casa di soldi, poi non lo fanno niente. Eh, non so, eh. Quindi secondo lei non... Lei te cosa? Prendi e far mettere a posto la casa. Non la convince lei il 110%. No, perché uno mi ha detto, di Vicenza, lui ha fatto mettere a posto la casa vecchia. Sì. Ha dato il 100%, ha pagato la banca, il governo ha dato i soldi alla banca, però il 108, il 110, l'8% non tiene la banca, ti tirano i due. Eh, eh, ti ha dato, quello che porta il vino qua me l'ha detto lui. Quindi secondo lei non è tutto oro, è quello che luccica? No, 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 non mi serve che l'ha appena rinnovata due anni fa. Non ci credo io a quelle robe lì All'inizio devi sempre anticipare e dopo aspetti quelli del governo quando arriveranno, se arriveranno Quindi neanche lei ha pensato a questa formula? Adesso come adesso che dicono che c'è stata una frode di 4 miliardi e mezzo Sono anche aumentati i prezzi per i lavori i prezzi per le materie prime Dicendo questo abbiamo detto tutto E quindi non hai neanche un minimo pensiero? No, no, no Oltretutto ho la casa che l'ho rimessa a nuovo 15 anni fa quindi non ho bisogno né di cambiare serramenti né niente Si è mangiato le mani quando ho saputo che c'era la possibilità di strutturarla a gratis No, perché io quando l'ho sistemata c'era già il bonus del 40% quindi li ho recuperati il 40% in 10 anni Dato che lavoravo solo io non ho recuperato 40% io e 40% la moglie ho recuperato solo la metà che dovevo recuperare però devo dire che è stata una cosa... E tutti gli altri bonus, bonus, scaldai, bonus... Niente Niente, niente, niente neanche i monopattini è stata la cosa più disgraziata che è stata fatta Ne ha mai sentito parlare del bonus? Sì, ma intanto non stanno facendo niente Cioè? L'amministratore finché non fa la riunione Capito? Perché abita in un condominio? Sì Ok Quindi non c'è stata in nessuna riunione l'idea appunto di approfittare di questi bonus Metano Stiamo parlando di super bonus 110% State lavorando in questo ambito? No, negativo No, negativo Noi siamo i boss del metano Ah, ok, ok Cosa ne pensate? Magari ne avete approfittato voi per casa vostra? Io no Neppure io Perché per me non è una cosa Per me c'è sotto qualcosa il super bonus Secondo me C'è che dici Davide? Non ti sei fidato? Non mi sono fidato Regalare è morto Quelli che danno i soldi così Zero Non avete mai sentito nessuno invece che ne ha approfittato E magari c'è rifatto anche la casa a gratis A spesa o stato? È vero E quello l'ha fatto? Eh, tantissimi Dopo però alla fine non so cosa succede Se la casa resta a lui Magari resta lo Stato quando c'è qualcosa da fare Quello non lo so No Non lo so, io chiedo Eh, anch'io Io devo chiedere, il mio messere è chiedere Non rispondere Purtroppo il mio messere è questo E neanche nessun altro tipo di bonus Bonus caldaie, bonus bagni Bonus, ce ne sono in giro mille di bonus Noi dobbiamo solo lavorare e basta Ah, ok Noi dobbiamo solo lavorare e basta Quindi bonus non ne prendete neanche uno? Bonus, solo calci E bonus non ne abbiamo Sul 110% stiamo chiedendo i bergamaschi se ne hanno approfittato, se conoscono il bonus Sto approfittando ma sono un po' indietro Cioè? È casa mia, se ne sto approfittando In che senso è indietro? È che sono un po' Fanno fatica a trovare le imprese Come mai fanno fatica a trovare le imprese? Eh, secondo me c'è anche un pezzo del loro Eh Non è proprio come si dice Però... Cosa ti ha fatto appunto venire voglia di ristrutturare casa? Eh beh... L'idea che tutto fosse pagato dallo Stato ovviamente Certo, certo Ed effettivamente così? Quello che si chiedono in tanti? Eh, c'è una parte che viene pagata al 50% Si possono comunque aggiungere altre cose che prendi il colpo e fai un po' tutto Ok, secondo te è una... È una buona cosa, però dovrebbero essere un po' più incentivate Un po' più lisce e snelle queste cose qua Tanta burocrazia per approfittarne Sì, sì Per quanto riguarda invece le imprese, trovato subito? No, siamo ancora in ballo Dopo un anno e mezzo se chiamo speciali Ah I prezzi? I prezzi intanto salgono Però la cosa buona è che non dovrebbe pagare l'utente finale Sì O sei preoccupato che poi alla fine... Sono preoccupato perché potrebbero anche fermarsi i lavori Potrebbero anche fermarsi i lavori Se non c'è disponibilità è ovvio che anche le materie, non so, le cose che servono sul cantiere È un po' fermo, un po' tutto Dici che alla fine dei conti sono un po' preoccupato per queste cose Sono preoccupato, vediamo come finirà e vedremo Conosci il bonus? Sì, qualcosina Cosa ne pensi? Approfittato? Ma guarda, non mi intendo tanto Sono giovane quindi non si trovo qua, ho appena sentito Ok, quindi non hai la casa tua di proprietà? No, 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 zero Abiti con i tuoi, immagino? Sì E loro hanno pensato appunto di ristrutturare la casa utilizzando questo bonus? No, no, perché è nuova quindi... Quindi non hai avuto problemi in questo senso Qualche tuo amico, qualcuno che la sta invece ristrutturando qui a Villa? Qua a Villa non so perché non sono di qui Sono qua in appartamento con l'università Ah ok, dove abiti? Civitate, Camuno E lì? Ci sono un po' di grui in giro, gente che sta lavorando su questo... Sì, sì, qualcuno sì, sì, sì E lei sa cosa è il 110%? No, sono mia E quelle ristrutturazioni che paga lo Stato? Sono tutti soldi rubati Cioè? Sono tutti soldi rubati Quando si fa a dare una casa al 110% Allora lo sa, non hai sentito parlare Certo, prima roba sarebbe da ammazzare quelli che sono il governo Perché non si può dare quei soldi lì a tutti O uno si prende, c'è lì una casa O no, chi la paga? I cittadini È vero o non è vero? Però non è che solamente due o tre lo possano farlo Lo potevano fare tutti gli italiani Sì, capito, fanno tutti gli italiani Con tutto quello che c'è in Ciro si potrebbe fare molto meglio È come il rete di cittadinanza Quindi a lei questo 110% non è piaciuto? No, non è piaciuto per niente Perché è giusto mettere a posto la casa Però c'è una casa vecchia Mare in centro, posso capire Però ho visto case O no, che hanno dieci anni Rivoltare il tetto, mettere qua Tanto paga Chi paga? E chi paga? E chi paga? Stiamo chiedendo stamattina, oggi pomeriggio Chi paga? Stati pagando I cittadini stanno pagando Con tutti i problemi che ci sono Purtroppo O no Io ho provato a girare il mondo La fame O no È in giro per il mondo E non ti andare in Africa Ci va a civilizzare la gente Andiamo a Roma a civilizzare Quelli che sono il suo governo Questo bonus quindi lei l'ha saltato E tanti bonus Sa quanti bonus ci sono in questo istante? Stiamo pagando ancora come si chiama la cittadinanza Ci si è dato 50 Ci sono più di 40 bonus in questo periodo Lei non ha approfittato di nessuno? Nessuno Neanche a televisione Ah ecco, quello Io sono un pensionato Un mese fa è saltata la televisione Sono andato e l'ho ricomprata Piano piano l'ho ricomprata Perché non hanno utilizzato il 20% Fino a 500 euro? Ma ascolta Dove fino a 500 euro? Ti danno 100 euro se va bene 100 euro massimo di 500 euro di spesa di televisione No, non è vero Perché io sono andato all'attronio Che sto e mi hanno detto Massimo 100 euro Più la strada Su, giù da Villa di Serio Nembro Che o no mi devo fare accompagnare Signori E poi tutte queste cose O no Qua in Italia c'è una cosa Gli anziani Bisogna ammassarli Perché al governo gli danno fastidio Costano come pensione O no Allora Vanno i soldi A chi c'ha voglia loro O no Loro stanno bene Prendono Al mese O no E poi hanno il coraggio di lamentarsi C'è in giro gente ancora con 500 euro Oh Posso urbare un minuto Stiamo facendo un sondaggio sul 110% Lei conosce questo tipo di bonus? Sì lo conosco perché c'è un mio figlio Che è un architetto Perciò facendo questi lavori Allora lo conosce bene Lo conosco sì Mi dica cosa dice suo figlio sul 110 Che adesso è fatto lui Che è un macello Ah È un macello Specialmente in questo periodo Dice che è un Non ci si capisce più niente Di quello che bisogna fare Perciò sarà un po' Difatti adesso è un po' bloccato Così mi dice Ci sono tante persone Che ne stanno approfittando Di questo 110% No approfittando In che senso? Approfittando nel senso Che lo stanno utilizzando Il bonus Sì ci sono persone Che lo potrebbero utilizzare Però in questi momenti In questo periodo Sono ripeto Sono abbastanza bloccati Fermi Infatti anche lui Facendo questo lavoro Mi dice che ci sono clienti Che sono un po' fermi Sono un po' bloccati Mi dicono anche Che non si trovano Appunto gli artigiani Le ditte che lavorano Ci sono i problemi di materiali Esatto anche quello Problemi di forniture Anche quello è un problema Hai sentito anche parlare Di prezzi Che sono schizzati alle stelle? Beh questo C'è stato un po' di speculazioni Di fatti Loro adesso cosa fanno? Cioè questi professionisti Che fanno questi lavori Lui mi diceva Che devono fare Si chiama asseverazioni Cioè vuol dire Che devono Controllare tutti i prezzi Di tutti i prodotti Proprio per non Per non far sì Che vengano lievitati Questi prezzi Ecco Perché c'è gente Che probabilmente Se ne è approfittata E forse anche per quello Che sono appunto volati I prezzi Delle materie prime Come sempre Poi ci si accorge Sempre dopo Di queste cose Che Eh Infatti sembra che adesso Vogliono metterci un freno Su sto benetto Superbonus Esatto Poi il fatto della guerra Che poi Ha fatto aumentare Tutti i prezzi Dice che la guerra Che ha fatto aumentare i prezzi Oppure già i prezzi Delle materie prime Prima ci sono stati Quelli che sono approfittati Poi magari ci imballano Anche la guerra Sì 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 Diciamo che ogni scusa è buona Per tirare su un po' il prezzo Esatto esatto Paga lo Stato Eh esatto Paga lo Stato sì Edilizia E lei sta facendo di bello No È andato a discarica Sono andato a Ah ok Non è che sta facendo Lavori di edilizia No no Lascia perdere Perché stiamo parlando Proprio del 110% È un disastro Ti hai sentito parlare? Guarda ne dicono tutti i colori Ognuno dice le sue però Stiamo tentando di capire anche noi Come gira questo 110% Eh no Se la gente si fida o non si fida È un rebus È un No no È un disastro Dopo giustamente c'è chi va bene E chi invece dovrà rimborsare Deve fare dei soldi Perché come giù in bassa Italia Hanno avuto dei soldi Finanziamenti E non ci ha costretto niente Ecco addirittura No sì è così Non diciamo E tirano sui prezzi Addirittura non l'ha costruita Dopo se ne approfittano anche quei prezzi Ritardano Le cose lì e via Insomma non so più cosa dire Lei E lei ne ha approfittato del 110%? No no Perché avevo già fatto 5-6 anni fa Una mezza di situazione al 50% Ah ok E poi ciò è andato mica male Però con il 110% è stato un po' È impossibile Uno costruisce la casa Paga tutto E l'altro è gratis Eh Cioè adesso Non perché No Giustamente per muovere il lavoro Sì Ma non in quel modo No Va bene Si era controllato giusto Come la legge del Come si chiama La legge del Non finanziamento La legge del cittadinanza La legge del cittadinanza C'è in tutta Europa E che nelle altre nazioni Funziona Nel nostro no Ne approfitto un po' Cioè ne approfitto nel senso Li percepisce anche chi non ne avrebbe diritto Controlli È come il discorso del Del cambio dell'euro Del mortadella E Come si chiama Lai Dodi Non c'entra lui È in base al valore che aveva la tua lira Non ci sono stati controlli in Italia Non Degli la colpa a Prodi È come il discorso Il Gallera è nella zona rossa E lo spazio di Azzano Gallera E invece il Conte Che non ha firmato il protocollo Stiamo facendo un sondaggio Sulla ristrutturazione delle case Si Ne hai sentito parlare? Si Si Perché? Perché stiamo facendo proprio un sondaggio Per capire se gli italiani E i bergamaschi soprattutto Si stanno tutti facendo Si Anche noi lì Con la nostra casa Fanno tutto la Io l'ho già fatto Fa un po' di anni fa però E com'è stata l'esperienza Della ristrutturazione con questo? Non ha pagato niente? Ho avuto interesse No Questo è diverso Quello che ho fatto io Era quella a metà O che 50% 50% E invece questa con 110? Questa con 110 La stanno adesso programmando Per rifarla Solo che stanno valutando Le varie Come si chiama? Le varie ditte Perché il nostro Come si chiama? Quello che si interessa della casa Ah si L'amministratore L'amministratore Ci ha fatto una proposta Che Era molto Ma molto cara Probabilmente ci guadagnano su un po' tutti Adesso stanno valiando Un nostro inquilino Che fa il pittore E lui dice che ha Quelli perché La fanno sopra la strada Qui non Devono chiudere Eccetera Sembra che valga la metà Insomma Il prezzo E quindi tutti siete d'accordo Per poterlo fare? Noi ci troviamo tutti Bene Andiamo a parlare del 110% Sì Conosce questo bonus? Sì Ma non sono proprietario Quindi non posso utilizzarlo Cosa ne pensa però appunto? Penso sia una buona opportunità Ne avrebbe approfittato? Sì Penso di sì Se ne avessi avuto bisogno Sicuramente Qualcuno Conosce? No Purtroppo no Nessuno conosce Che ne ha approfittato? Purtroppo no Perché anche a casa di mia madre Che è proprietaria Non l'avevano fatto poco fa Quindi Non hanno potuto utilizzarlo Purtroppo Che sfortuna Sfortunatissimi Non ha approfittato del 110%? No no Non ne so niente Non ha ristrutturato casa? No 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 Purtroppo l'ho fatto prima Che arrivasse il 110% Però il 110 ne ha sentito parlare Sì però non so niente E se ci fosse stato E se ci fosse stato prima Di ristrutturare casa? Beh ci avrei pensato In effetti Però sinceramente Non so bene in cosa consiste Quindi lo dico così Tanti pure essendoci questo 110% Non ne hanno agevolato Perché non si fidano Ah Poi alla fine sì ma Non so se ha ragione oppure no Perché non so cosa sia esattamente Quindi Non mi sono interessato per nulla Sul 110% Ne ha sentito parlare? Ne ho sentito parlare Ma siamo in affitto Perciò non ne abbiamo usufruito Ah ok C'è invece qualcuno di proprietà Che ne ha usufruito? Conosce? Sì Conosco tutto il paese Però dovrei inviarla Nelle varie case Però non ne stanno facendo? Alcuni sì ne hanno fatti Sì Sì Parecchi dei miei clienti Amici L'hanno fatto Sì E cosa Non ne avete mai parlato? Sembrerebbe che poi Il 110 alla fine Non sia proprio il 110 Ma che ovviamente Tante spese poi vanno Pagate dal proprietario Perché non rientrano poi Nel Nel 110 Quindi probabilmente Non è tutto oro Ciò che lucide Non è tutto oro Però beh Venga quello che danno Effettivamente Piuttosto che niente Certo Quanti bonus ci sono adesso In giro? Non saprei So che Chi ha usufruito È tutta gente Che già stava bene Perciò non so quanto Abbiamo potuto aiutare Le case veramente vecchie A tornare in A essere poi Meno Come si può dire Meno inquinanti Sì Chi l'ha fatto Quindi L'acqua L'acqua al mare L'acqua al mare L'hanno dato l'acqua al mare Quello sì Purtroppo sì Perché Tra geometra Cose varie Chi alla fine Non ne aveva neanche uno Questa cosa per me Non è riuscito a Non è riuscito ad approcciarci Ok Così Dice che Qui a Villa Chi l'ha fatto Sono le famiglie Più benestanti Quelli che hanno le ville Più belle Che alla fine Non è che avevano Gran bisogno Di questo Efficientamento Come si dice Energetico Quindi non l'ha convinta Molto lei Le modalità Per lo meno Di questo Poi non ho avuto Io direttamente Poi hanno fatto Lavorare un po' Le imprese Che erano ferme E dicono Che si sono aumentati Anche i prezzi Anche delle materie prime E quello Ha aumentato tutto E chi paga E chi paga Chi sta bene paga Chi va avanti Chi sta male Resta indietro Come è sempre andata Hai mai sentito parlare Del 110% No Cos'è? Quella possibilità Che dà lo Stato Per ristrutturare casa Per adeguarla Ah sì 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 Ok Sì Non ne hai profittato? Stavamo valutando Però devi pagare prima E poi Non lo so Se arriva dopo No È un po' complicato Quindi hai subito Mollato il colpo Senza andare più a fondo Sì Il condominio Hanno deciso di farlo E Stavamo valutando Però pensavamo Di cambiare casa Cosa ne è uscito Nella riunione condominiale? Tutti d'accordo I condominio? No 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 Non tutti d'accordo No è un'altra famiglia Perché Ti toglie un po' La possibilità Di cambiare casa Ah ok Quindi per adesso Niente al 110% Niente per adesso È una norma giusta questa? Ma E Non lo so È un incentivo Per essere più Ecco friendly Non lo so Così investono Per togliere un po' Le dipendenze Dell'energia Ma Però Non lo so Come tutto Un po' troppo complicato Per me Io sono straniero Così Burocrazia No C'è meno burocrazia Di dove sei tu? Irlanda C'è meno burocrazia lì? Sì Da quello che Mi ricordo Sì Stiamo facendo un sondaggio Sul 110% Ne ha mai sentito parlare? No Non ho mai sentito parlare Il bonus per la ristrutturazione Delle case? No Non ho sentito parlare 110% Lasciamo perdere Cosa ne pensi? Come ditta Lasciamo perdere Te ne occupi? Sì Abbiamo già fatti Cosa fate voi? Abbiamo fatti due idraulici Sì 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 Com'è? Com'è? Qualcuno si dice Sì tutto liscio Abbiamo Ripreso tutto Abbiamo pagato niente Come idrauliche Come lavoratore Come ditta Non possiamo dire niente Abbiamo sempre presi Fino adesso Certo E invece Tanta problematica Tante carte Quello sì Ma ne vale la pena Secondo te di fare Questo 110%? Allora Noi come ditta no Perché? Troppa burocrazia Troppo Troppo lavoro dietro Troppo Avrai lavori fino al Per quello siamo strapini Roba Se vuoi anche Non dormi notte Non fare ce ne sarebbe Sì 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 E tu invece personalmente Non hai pensato Di usufruire del 110%? Allora Personalmente no Se nel settore Ci lavori col 110% Mai pensati di non farlo? No Perché? Troppi costi Sì C'è troppo C'è un giro dietro Troppo allucinante Sì sì Lasciamolo fare agli altri Esatto 110%? Sì Mai sentito parlare? Sì L'abbiamo fatto L'avete fatto? L'abbiamo fatto Oh e vedo lì una faccia Mezza disperata O convinte? No 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 Abbiamo quasi finito Oh È durato Da settembre Stanno finendo adesso Quindi Nove mesi C'è stata qualche Per i pezzesi Ci dicono Un casino Burocrazia Com'è stata la tua Avventura? Spesso perché È stata abbastanza lineare Perché è precedente Al Diciamo La rivoluzione Che è stata introdotta Con i recenti I recenti cambi Dal governo Quindi Ho firmato un po' Di scartoffie E basta Ok Si è fatto in fretta A trovare l'impresa Il progetto Tutto fatto Sì perché Alla fine È stato approvato A metà 2021 Settembre È iniziato In pratica Già ripagato Tutti i lavori Non hai dovuto Tirare fuori Come si dice Qui in Bergamasco Ho pagato Una piccola Piccola somma Ok Perciò però Rispetto a quello Che sarebbe costato Ok Tornessi Indietro di nuovo Si ce lo farei Lo rifai Chiaramente Io sono consapevole Che è una Siamo fortunati Non è una cosa Da fare in Italia Al 110 Da un punto di vista Chi l'ha promossa Ha sbagliato tutto Perché? Perché in Italia Queste cose non si fanno Però da beneficiare Dici che c'è stato Un po' di magno magno Con il budget Che è stato stanziato Si poteva costruire La capola a casa Però Questo è un altro discorso Dici che Una ristrutturazione Da 100 Qualcuno L'ha fatta pure Pagare 300 C'è stata una speculazione Come Come gesto che sia Alla fine Non è l'unico settore Che sta avendo Delle speculazioni In questo periodo Quindi Sentivo qua In commenti Cosa dicevi? No no Ci riteniamo Molto fortunati Nel senso che è andato Tutto bene Sappiamo di Situazioni un po' più difficili Magari qualche vostro amico Che ci ha provato Magari sulla vostra Esperienza che ha visto voi Sì sì assolutamente Anche tempistiche molto più lunghe Quindi Pantieri bloccati Quindi siamo stati molto fortunati Lo sappiamo E viva allora E viva Allora Ne ho sentito parlare però Su due piedi Di scrivere cosa è bene Non so È un'opportunità Bisognerebbe bene andare a vedere Poi Si capisce Tu non hai pensato Di approfittare Di questo bonus Per ristrutturare Completamente Casa tua? No 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 Perché comunque Vivo col mio ragazzo Però è a Nembro E la casa già l'aveva presa lui E quindi è già stata fatta da lui E Cioè entro in qualcosa che già c'era Quindi Però La casa praticamente è recente Non ha bisogno di Però ad esempio i miei Hanno sentito una cosa del genere E avevano pensato Se anche le tapparelle si possono fare Sì 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 Infissi, tapparelle, capotto, tetto Si può fare un po' di tutto Ecco Mi sembra che loro l'hanno fatta quella cosa lì E si sono trovati bene L'unica cosa è che Essendo un condominio Non potevano essere autonomi pienamente Rispetto a questa cosa Perché Cioè Non puoi mettere sulle tende gialle Se gli altri ce l'hanno arancioni Certo Però Però come condominio Ne hanno approfittato Sì sì E cosa Ne hai sentito parlare bene o male Di questa avventura? Sinceramente bene La gente Ha voglia di risparmiare Anche se i fatti Ci dicono il contrario Perché comunque Ha aumentato tutto Sì 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 Ma secondo te il fatto che sia anche aumentato tutto Dipende anche dal fatto che questi bonus pagati dallo Stato Insomma Siano appunto pagati dallo Stato E non dai cittadini quindi Sì no Sì è così Nel senso ad esempio Mia mamma Che ha lavorato 42 anni Prende una miseria di pensione E c'è gente invece che Ha molte più risorse Che magari prende il doppio Qualcosa di più Tante cose ti fanno pensare Dici come può essere Purtroppo queste cose esistono Bonus 110% Mai sentito parlare? Non ne ho sentito parlare ma non mi interessa Non ho Non ha mai Non approfittato? Non ne ho bisogno Stiamo chiedendo appunto ai villesi No no Io oltretutto non sono neanche di villa Quindi Ah ok No ma non mi interessa Non Non è che le stiamo proponendo No no capito No per l'amore di Dio Solo una domanda No non Quindi lei non ha ristrutturato casa No Perché non si fidava? Perché non c'era bisogno? No perché non c'era Non Vivo in una villetta con sette appartamenti E nessuno si è fatto avanti a fare richieste strane Siamo già abbastanza Se glielo avessero proposto? Non lo so Per quel che ho sentito avrei i miei dubbi Sul super bonus 110% Un architetto Esatto Allora Diciamo che è stata una Una a mio avviso grande legge Ma purtroppo il nostro paese Soprattutto in certe aree Tende a specularci un po' troppo Oppure anche a frodare Aree non geografiche Aree proprio di dimensioni eccetera E oltre al 110% è stato molto importante A mio avviso la cessione del credito Che è l'articolo 121 110 Articolo 119 Cessione del credito Articolo 121 Che ha compreso poi tutti i bonus L'articolo della cessione del credito Ha dato quell'input E quel via Il mondo dell'edilizia è molto interessante Dai giornali La frode macro E soprattutto su bonus facciate Che adesso è andata un po' a limitarsi Ma ovviamente dato che ci sono 4 miliardi di frodi Se non di più adesso Tutto poi è stato colpito Quindi bel fine Bel mezzo Ma da legiferare magari ancora di più E da controllare ancora di più Però ecco non lo farai finire Poi vabbè Io non faccio anche dei 110 Ma non ho chiuso i battenti per tutto il resto Dicendo faccio solo 110 È un lavoro come un altro È importante anche perché le direttive della comunità europea Dicono efficientamento energetico sugli edifici Quindi in qualche modo bisogna farlo Non dovrebbe finire Dovrebbe essere molto più controllato E vabbè Adesso Draghi con la dichiarazione fatta Ha un po' stoppato tutto Le banche hanno iniziato a preoccuparsi E soprattutto adesso è fermo per le banche Ma non è tanto al 110 l'accessione del credito Adesso sono stato un po' prolisso Però sono entrato un po' più nel tecnico Assolutamente sì Così meno i nostri telespettatori Hanno capito da un esperto come gira Ma una domanda Quante persone sono venute da te Per chiedere informazioni su questo 110%? Tante Tante sì Io tra l'altro Penso perché me l'hanno detto anche le banche Di essere stato uno dei primi ad averlo avviato Il decreto è stato di settembre 2020 E ho iniziato a metterci testa a giugno 2020 Perché una coppia di giovani era venuta da me Giustamente sentendo voleva ristrutturare casa E quello è filato liscio come lavoro Tutto tranquillo E' andato benissimo Ne ho fatti altri Altri sono andati bene In questo periodo c'è un po' lo stop delle banche Quindi soprattutto quei privati Che non hanno un capitale così alto Ma chiedono un prestito ponte alla banca E poi fanno il 110% Prendendosi ovviamente un minimo di rischio Se prima quel minimo di rischio era molto basso Adesso a livello di banca è un po' più alto Perché appunto hanno un po' stretto i cordoni Ma ripeto è più una situazione di cessione del credito Che effettivamente i 110% Una domanda e l'ultima Poi ti lascio Su 100 persone che sono entrate E poi alla fine quanti hanno effettivamente concretizzato questo 110%? Concretizzato Concretizzato Un 60% Sì 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 assolutamente E vabbè c'è ancora oggi in corso d'opera ovviamente Dei lavori che si concluderanno E ci sono altre imprevisioni per il 2023 Poi ripeto Vediamo come andrà Secondo me si sblocca Perché deve sbloccarsi Perché soprattutto dal punto di vista che si è scoperto Facendosi anticipare dei soldi dalla banca O va in fallimento ma non credo Però ecco avevano fatto delle promesse Con la finanziaria di dicembre 2021 Che l'avrebbero fatto continuare Adesso toglierlo Rimangerebbero la parola Cioè se dovevano stopparlo Dovano stopparlo con la finanziaria del 2021 E concludiamo anche questa puntata Del nostro sasso nello stagno Dedicata al bonus 110% Grazie a Vladimir Lazzarini Che si è occupato del montaggio Delle riprese del sasso nello stagno Grazie a voi amici di Villa di Serio Che avete risposto alle mie domande A tutti voi che ci avete ovviamente seguiti in tv Prossimo appuntamento tra 7 giorni Sempre qui sull'84 di Antena 2 TV Grazie a voi amici di Villa di Serio Grazie a voi amici di Villa di Serio